Salve a tutti, io sono Paola Ciccarelli di professione social media manager e sono ospite di GM Photo Agency nella rubrica parole digitali che stasera inauguriamo con un ospite di tutto rispetto e inauguriamo questa sezione di interviste in video, quindi molte emozioni, moltissima direi, però devo dire che il nostro ospite è una persona che conosco bene e molti di voi anche conosceranno, quindi è una cosa veramente molto bella, è un piacere ospitarlo, un onore devo dire, diamo la parola e diamo il benvenuto soprattutto a Bernardo Mannelli, molti di voi lo conosceranno come Mr. Tool, quindi io passo direttamente a fargli la prima domanda, anzi prego Bernardo. Ciao Paola, ciao a tutti, benvenuti, grazie. Grazie a te veramente per la disponibilità, insomma sappiamo che sei molto occupato e quindi siamo onoratissimi. Passo direttamente alla prima domanda, se ci vuoi parlare di te, ti ascoltiamo veramente, prendiamo dalle tue labbra. Mi occupo di comunicazione digitale in Confindustria Firenze e da qualche anno ho un blog che si chiama toolperstartup.com, è un blog in cui raccolgo, seleziono e poi pubblico, quindi faccio delle recensioni su software per piccoli business. Piccoli business vuol dire startup, freelance, consulenti, PMI, piccole agenzie, il piccolo che ricorre sostanzialmente significa questo, software che siano da un costo contenuto, accessibili e semplici da utilizzare, cioè che non richiedono competenze di programmazione. Intorno a questo blog poi è nato un piccolo ecosistema, una piccola redazione, partnership e collaborazioni, consulenza, formazioni, però sempre e solo con i tool, come i software, come unica linea guida. Ecco appunto, come è nata questa passione? Cioè il primo impatto che ha avuto riguardo a questa cosa e come è nato questo amore? Cioè da che cosa, il primo bacio, diciamo, tra te il tool? Il primo bacio, ero troppo giovane, nel senso che poi il primo bacio tra me e il digitale, è avvenuto quando il digitale, ancora non si chiamava digitale, ma si chiamava informatica. Pur non essendo un tecnico, mi sono sempre appassionato a, prima erano i videogiochi, eh, lo ammetto, un po' anche adesso, ma prima di più. Passo la mano perché anche io sono una smalettora. Anche te? Sì. E quindi, niente, ho sempre avuto questa passione appunto per l'informatica. Poi un'altra passione era quella della comunicazione, ho iniziato a lavorare quando internet c'era, ma non era così accessibile, sviluppata come oggi e poi ho sviluppato questa passione per dei programmini che facevano delle cose. Programmini perché all'inizio non me li potevo permettere e quindi dovevano essere programmini gratuiti o quasi. Ho cominciato a sviluppare questa expertise, questa competenza verticale, più che altro perché questa esperienza nel conoscerli. E che è successo? È successo che quelli che mi conoscevano intorno a me mi chiedevano mi trovi un software che fa questa cosa? Mi serve un software per fare? Mi serve un software. Allora, un po' come Aranzulla, lui è più bravo, più famoso e più ricco. Però, allo stesso modo di Aranzulla, io ho deciso di mettere a disposizione di tutti quello che io conoscevo. E quello che era un hobby puro, puro, è diventato piano piano un qualche cosa che non lo è più, credo una piattaforma che si avvicina di più a un business. Prima, all'inizio, inizialmente, io che cosa cercavo in un blog? E mi sono approcciato a questa piattaforma rispetto a quello che io cercavo. Io cercavo un qualche cosa di qualità, un qualche cosa di selezionato, qualche cosa che non mi mettesse pubblicità, che non mi disse noia, con richiesta dei newsletter, con richiesta che i cui giudizi fossero oggettivi, chiaramente parziali perché derivano da una persona, ma comunque oggettivi e non mediati o influenzati da scambi di denaro o di soldi. Questa piattaforma Eden, questo paradiso della piattaforma, era una piattaforma che però non riusciva a essere sostenibile, cioè alla fine questo servizio lo potevo dare così, avanzatempo, senza avere alcun tipo di revenue, quindi non era sostenibile. E allora, da una piattaforma iniziale, che era totalmente dedicata all'utente, dalla A alla Z, sono passato a una piattaforma che ha sempre questo approccio di qualità, diciamo così, ha sempre questo approccio dedicato all'utente, quindi cerco di far trovare le cose subito, però ha delle piccole, diciamo così, linee di monetizzazione, ha una newsletter e alla fine è stata una scelta giusta, perché comunque alcuni tipi di utenti preferiscono ricevere un recap mensile via mail rispetto ad andarsi a vedere il blog tutti i giorni, ha un po' di affiliation dentro, e quindi una via di monetizzazione, ma sempre, cioè, non è che se un tool mi paga, io allora faccio pubblico il post, prima guardo il tool, lui non sa nemmeno che esisto, me lo guardo, me lo provo se c'è un piano gratis o una trial, e poi dopo caso mai lo contatto, ma questa è una fase successiva, quindi cerco di mantenere ancora questa purezza, se vogliamo chiamarla così, iniziale, con una piattaforma un po' diversa. E l'idea è nata da lì e poi si è sviluppata nel corso degli anni, bla bla bla. Ed è una cosa bellissima questa, perché io stessa sono una fruitrice comunque dei tuoi servizi, diciamo così, nel senso che quando mi serve un tool, la prima cosa che faccio, cerco Bernardo Mannelli ovunque, anche sui social, quindi questa cosa è molto apprezzabile. A livello business, come trasbordi questa cosa relativamente alle start-up, o comunque alle piccole e medie imprese a cui puoi dare una mano, nel senso che cosa consigli loro per il lancio del loro prodotto, cioè come glielo consigli, come collabori con loro, cioè più o meno ecco questa domanda. Sui piccoli business… Sì, piuttosto che farti cercare, cioè qual è il tuo modo, diciamo, di approcciarti con le start-up o le piccole e medie imprese? Ci sono due tipi di attività, una è appunto quella del blog, no? Per cui il blog è una, tra virgolette, una vetrina di Bernardo, una vetrina del marchio per start-up e raccoglie utenti organici. Quindi Paola, o chi per lei, o Bernardo cercano un software, magari fanno una ricerca su Google e appare un mio posto dove io parlo di quel software, che fa una determinata attività, presentazioni, email marketing, quello che vuoi. E questo chiaramente ha una modalità di accesso per una domanda consapevole. Cioè chi trova un tool seguendo questo percorso, sta già cercando un tool che faccia un qualche cosa. E quindi in questo modo poi lo trova. Poi dopo le modalità di contatto successive sono varie e sono anche queste, credo, il più possibile poco invasive, cioè tendo a non andare lì all'utente, a batterle sulla spallina, e direi, oh, ci sono, oh, chiamami, oh, scrivimi, oh, ci sono dei punti dove si può contattare e chiedere informazioni, c'è una bella pagina di contatto sul sito e rimani là. E questa è un'attività, tra virgolette, organica dal basso, no? Con una domanda consapevole. Dove la domanda non è consapevole, e quindi dove c'è un livello di consapevolezza digitale bassa, qui è più difficile. Perché probabilmente bisogna fare un giro un po' più lungo e avere un approccio indiretto. Cioè il blog, la piattaforma, l'expertise che uno ha su un determinato attività ti permette di accedere a determinate strutture che magari erogano corsi di formazione, che magari fanno loro attività di digital transformation, e inserirti in questo percorso andando a evangelizzare, possiamo dirlo, una serie di interlocutori, per esempio le PMI, che non hanno questo approccio su digitale. Per le start-up è diverso, perché sono tendenzialmente giovani, liquide, innovative, ad alto contenuto tecnologico, quindi hanno un'abitudine anche, e anche magari hanno dei founder un po' più giovani, proprio d'età, quindi hanno un approccio un pochino più digitale e innovativo. Per questa realtà qua, gli approcci alla fine sono gli stessi, cambiano gli attori di questa filiera, diciamo così, della conoscenza. Incubatori, acceleratori, corsi di formazione per start-up, i luoghi dove le start-up stanno, dall'altra parte Google è il miglior amico dell'uomo, più del cane. Forse no, dai, non siamo così cattivi, però comunque funziona anche quello. Quindi, e poi il nome, tool per start-up, così. Esatto. Bene, bene. Quindi, diciamo, al di là delle start-up, che tu già ci hai fatto un quadro abbastanza, anzi, chiarissimo, la mia domanda è relativamente alle piccole e medie imprese che erano già strutturate, magari prima del digitale, no? Come hanno, come si sono approcciate, diciamo, come è cambiato il loro approccio nei confronti, cioè, verso il mercato, proprio, diciamo così, il trapasso dall'analogico al digitale. Si sono adeguati, o comunque hanno avuto difficoltà, c'è stato bisogno comunque, o c'è ancora bisogno comunque, di, eh, sari dietro, tra virgolette, cioè, c'è un cambio, c'è stata, non so, una difficoltà, oppure, secondo te, è stata una cosa, cioè, che è scivolata via come l'olio? Ma sai, la cosa, sicuramente c'è ancora bisogno di, di, di un'attività, di una consapevolezza che ancora non c'è, su, su alcune cose banali, eh, Paola, perché io credo che, alla fine l'imprenditore sia bravo a fare l'impresa, eh, fare, fare imprese è difficile, è rischioso, occupa, e quindi è un'attività, cioè, difficile da fare, e se quell'imprenditore ha un'impresa e fattura, e magari anche dei dipendenti, e magari sono anche dieci quei dipendenti, eh, gli si può insegnare poco a fare l'impresa, ok? Almeno, io posso insegnare poco a fare l'impresa, però, quello che manca, probabilmente, è la consapevolezza digitale, unita alla curiosità, cioè, i termini complessi, le parole inglesi, eh, le eventi social, devi stare dappertutto, e ci vuole il brand analyst, ci vuole il trending performance, cioè, tutte professionali, il sales specialist, tutte professionalità, estremamente necessarie in questo mondo, perché questo, ma non gli si possono vomitare addosso a una persona, perché uno ha un rifiuto, allora, è un problema di linguaggio, secondo me, e di, eh, cultura digitale, cultura digitale e di curiosità, perché l'imprenditore, se vede che c'è una possibilità di guadagno, fatturato, snellire i processi, non è che è lì che aspetta la sfrutta, la cavalca quest'onda, e che cosa ci ha aiutato il covid? Poco, in generale, nella nostra vita, ci ha aiutato molto poco, e anzi, però, una cosa sì, ci ha, ha dato questa consapevolezza digitale, anche a tutta una serie di soggetti, che normalmente, non avrebbero mai avuto, alcun tipo di necessità, di, eh, confrontarsi con questo mondo, che non sono gli imprenditori, eh, sono, eh, il pensionato, il, cioè, dal basso è venuto fuori, dalle chiamate di Zoom, agli auguri, via, videocall WhatsApp, di Natale, cioè, ce ne sono di, di tutti i tipi, la, la, frequentare la palestra online, su, su una videochiamata, questa cosa qua, genera una specie di, di, di humus sotto, no, in questo sottobosco, che poi farà nascere delle piantine, alcune sono già nate, queste piantine si spera che diventino alberi, cioè, si spera che questa piantina continui a trovare questo terreno fertile, sia illuminata da un sole, che è lo sviluppo del digitale in Italia, lo sviluppo del business grazie al digitale, e che crescano. Noi dobbiamo innaffiarla, magari ogni tanto potare, i rami secchi, assolutamente. questa piantina, per fare in modo che cresca bene. Poi raccogliamo i frutti tutti, Noi, gli imprenditori e gli altri. Sì, in effetti è così, no, c'è stata, si è visto anche a livello scolastico, no, per fare un esempio, comunque si è vista che, cioè, c'è stata proprio questa, il prendere atto, diciamo, di quanto fossimo indietro, proprio a livello di digitalizzazione, no, proprio a partire dalla persona singola, anche magari, eh, ad arrivare, diciamo, ad alcune piccole e medie imprese, che in effetti l'unica cosa che facevano era alzare la serranda, no, insomma, però, indubbiamente, c'è stato questo impatto e adesso magari si sta cambiando un po', eh, diciamo così, il modo di approcciarsi alla digitalizzazione ed è un bene, quindi, comunque, facciamo tutti il tifo per questa cosa. Quindi, relativamente a quello che tu hai detto, conta, tanto che magari, eh, l'imprenditore abbia bene, presente il concetto di avere un team, secondo te, che si occupi di tutto ciò all'interno dell'azienda, oppure, che possa esclusivamente anche, eh, diciamo così, affidarsi a professionisti esterni, agenzie di comunicazione, cioè, secondo te, eh, allora, l'approccio iniziale non può essere quello, chiaramente, di avere un team in azienda. Perché altrimenti deve fare formazione, cioè, comunque ha bisogno di una... Non solo, ma deve magari assumere, deve, deve essere, avere una consapevolezza veramente grande. Fornitori esterni, freelance, piccole agenzie, anche piccole, perché poi la trasformazione digitale avviene per piccoli passi. Cioè, il rifiuto che c'è da, da parte di alcune aziende verso il digitale, non è, ripeto, un rifiuto verso il business. È un rifiuto verso un mondo che non conoscono, che gli sembra oscuro, che vedono costoso, e che percepiscono dall'altra parte come invece tutto gratuito. Perché Facebook è gratis. Ok? Io sto banalizzando e sto generalizzando, non voglio fare, non voglio fare del qualunquismo, spicciolo. Però, Facebook è gratis, l'internet è gratis. Perché io devo pagare uno che mi fa la SEO? Perché io mi devo posizionare sui motori? Perché devo pagare un sito dieci, quindici, ventimila euro. Perché? Cioè, me lo fa il prodottino gratis. Va bene. Va bene anche utilizzare il prodottino gratis. Va bene utilizzare anche il piccolo freelancing esperto, junior. Va benissimo. L'importante è cominciare ad avere questo approccio verso il digitale. Poi dopo, si spera, perché io so che la parte di comunicazione ci vuole un presidio in azienda. Poi il presidio in azienda gestisce il traffico tra l'esigenza aziendale, il commitment aziendale e magari dei fornitori esterni, chi fa la grafica, chi fa il contenuto, chi fa la SEO, chi fa... E allora tornano tutte quelle professionalità, parte di quelle professionalità che ti ho detto prima. Ma all'inizio può essere soltanto un qualche cosa di spot momentaneo, fase di test, vedere, perché poi all'imprenditore gli devi portare anche i numeri, non è che puoi fare... Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io ne so qualcosa. So benissimo di cosa stai parlando. Ok, perfetto. Questo è un ottimo spunto su cui magari chi ci segue può comunque riflettere. La mia domanda, diciamo passando totalmente ad un'altra cosa, anzi vorrei andare un po' indietro nel tempo con te, in quel di Londra, dove hai fatto, insieme ad altri professionisti, insomma molto quotati, hai fatto il Digital Tool Italia. Diciamo vi siete rivolti un po' alle imprese che erano presenti diciamo in Inghilterra e la mia domanda in realtà è questa, se ci vuoi spiegare in poche parole di che cosa si è trattato, ma... E poi la mia domanda è magari come... Se avete trovato delle differenze tra le imprese, la mentalità diciamo delle imprese straniere, inglese in questo senso, in questo caso, rispetto a quelle italiane. Allora, sì, il tour, il tour del tool era, era, nasceva dalla, dal pretesto era il libro di Alessandro Hortensi, Digital Marketing per lo Sport, che, il cui, i cui contributori o parte di essi sono, hanno fatto questa, spedizione a Londra di, di una serie di speech verticali su argomenti del digitale. È stato, credo, per me è stato molto formativo, interessante, e anche bello, perché poi sono stati dei giorni anche belli, però mi ha servito formativo anche per capire, appunto, come, in che realtà mi trovavo. La realtà è chiaramente diversa, ora, io non ho uno spaccato particolarmente preciso e, e, un campione particolarmente rappresentativo di questa cosa, però, per quello che ho voluto vedere, certamente l'approccio era molto diverso. Innanzitutto c'era una minor burocrazia organizzativa, quindi, a prescindere dalla burocrazia, quella vera, la burocrazia organizzativa era tutto molto più semplice, veloce, rapido, snello, non si dovevano compilare venti moduli per fare una cosa, cioè, ok, e quindi questo chiaramente facilita, anche se lo trasli sul digitale, facilita anche tutta una serie di attività formative e di business che fanno del digitale il loro, il canale, o il loro, diciamo, con un approccio al digitale, perché il digitale è veloce, è senza limiti, si misura tutto, ok, e quindi la burocrazia non fa altro che rallentarlo, questo processo. E poi, e poi ho trovato, ho trovato una vitalità, chiaramente imprenditoriale, eh, diversa, e qui un po' mi piange il cuore, mi piange il cuore, perché un po' ripenso a, ma un'Italia del, degli anni 50, 60, eh, del boom economico, che aveva chiaramente una prospettiva diversa di, eh, di visione, usciva dalla guerra, aveva il piano Marshall, aiuti, eh, e c'era questa visione, ma c'era una vitalità incredibile da tutti i punti di vista del design, della creatività, dell'impresa, e sono nati il capitalismo familiare italiano, veramente ha fatto di passi da gigante, in cinque anni ha rivoluzionato questo paese, cioè, ok, quindi manca un po' quella, quel fuoco che c'è dentro. Alcune realtà in Italia ci stanno provando a ricrearlo, in un qualche modo, mh, alcune, alcune attività, magari cercando di, con incentivi, con l'industria 4.0, la rete degli incubatori e degli acceleratori in Italia, il mondo delle start-up, ma è difficile, perché noi abbiamo una cultura, un sistema istituzionale di regole, che è diverso da quello anglosassone, e quindi non possiamo prendere e copiare il modello anglosassone, portarlo in Italia e aspettare che funzioni, perché questo non funziona, o funziona, prende delle vie che sono diverse, ci sono delle start-up, che sono start-up da dieci anni, che fatturano 100.000 euro l'anno, e che sarebbero già fallite, ci sono delle start-up, che non hanno un approccio da start-up, che hanno un approccio da piccola impresa, che fanno le cose con calma, che provano, che fanno i test, che mettono online le cose piano piano, che fanno gli update di prodotto piano piano, una di queste, la conosciamo entrambi, ed è Apple Speaker, ed è un approccio italiano nel fare start-up, ma è un approccio giusto, perché viviamo in questo paese, e questa azienda è solida, guadagna, offre un servizio ottimo, ha un customer care funzionante, ora io non voglio fare degli spot, no, 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 ma è così, sto tirando fuori un esempio, che secondo me è di diversità, rispetto a questo, probabilmente in Inghilterra, può speaker non andrebbe bene gestito in questo modo, probabilmente, ma qui funziona, e di giusto sia così, e cresce, comunque cresce, cresce bene, quindi è un esempio comunque da prendere, almeno per chi vuole approcciarsi a questo tipo di impresa, diciamo così, anzi salutiamo anche i ragazzi tipo speaker, approfittiamo, diciamo che la digitalizzazione a questo punto, speriamo che prenda bene a livello di amministrazioni, proprio per dare anche la possibilità alle aziende, o comunque alle imprese che vogliono iniziare, di velocizzare il tutto, proprio perché poi online diventa tutto molto più, cioè se creare un'azienda comunque, frenata dalla burocrazia, poi diventa difficile comunque progredire, quindi su questo, è un problema annoso, però io devo dire, essendo molto più anziana di te, mi è stato insegnato, che dopo le guerre, c'è sempre un boom economico, no? Diciamo che, noi non abbiamo vissuto un periodo di guerra, però abbiamo vissuto una pandemia, la stiamo ancora vivendo, che ha frenato tutto, no? Il lockdown vari, eccetera, eccetera, quindi si è tutto un po', speriamo, cioè l'auspice è questo, cioè che magari finito tutto ciò, si riparta alla grande, e ci sia proprio un'accelerazione, verso un cambiamento, diciamo, epocale, di tutte le imprese, cioè una ripresa, veramente come la boom economico, di cui parlavi tu prima, quindi la speranza è questa, nel tuo boom economico, voglio farlo vedere bene, c'è un libricino, non so se si vede, ecco c'è, così, ok? Faccio un po' di... Si vede, momento pubblicità, che ci dici? Che vi dico? Eh, che è il mio libro, che è uscito da un pochino più di un mese, è edito da Maggioli, ed è un libro, è un esperimento, Lo faccio vedere ancora intanto che tu parli? Dai, è un libro un po' strano, è un esperimento, è un libro che parla di software e tool, appunto, è un libro che ha dentro un elenco, un inventario ragionato di software e tool, e sono circa 600, ma la differenza rispetto ad altri volumi o ebook, o raccolte di questo tipo, è che non ha solo quello dentro, cioè, io ho provato a dare un approccio strutturale, un approccio teorico, e strategico prima della scelta dello strumento, perché la domanda che mi facevano quando ho iniziato, qual è lo strumento giusto per, mi dai uno strumento per, oggi, forse neanche allora, ma oggi proprio non si può fare, perché prima di darti lo strumento, bisogna capire quali sono i fabbisogni, qual è il budget, e se questi discorsi sembrano noiosi, sono gli stessi discorsi che fanno, Paola, probabilmente fai anche tu da social media manager, quanto mi costa fare tre post su Facebook, quanto mi costa gestire Facebook per un mese, non ti costa 200 euro, o 2000 euro, o 5000 euro, non lo so, dipende da un sacco di cose, quindi non puoi dirlo, credo, non è il mio mestiere, ma credo. No, no, è così, è così. Ecco, e allora, prima del software, bisogna fare un'analisi dei fabbisogni, davvero, dei piani di prezzo, del budget, e poi andare a vedere, tra il set di strumenti, quali sono le funzionalità. Ti dico che ho cercato di dare, appunto, un approccio strategico, perché, di spiegare, come vengono utilizzati in azienda, questi software, quali sono, tendenzialmente, gli attriti, che si creano in azienda, o che si possono creare, tra, magari, l'IT, che vuole chiudere tutto, non si installa niente, non si usa, e magari, le singole linee di business aziendali, che invece, vogliono provare questo software, quest'altro, gli piace quello, vogliono iscriversi a questo, sperimentare, provare, anche perché il mercato, ha una vitalità incredibile, ce ne escono, Scott Brinker, che è un marketer americano, nel 2011, provò a mappare i tool di marketing, erano 150, nel 2020, erano 8000, quindi, il mercato è in crescita, ci sono i cloni, dei cloni, le copie, delle copie, delle copie, che magari sono anche meglio degli originali, certe volte, e per alcune funzionalità, quindi orientarsi non è facile, per orientarsi, basta dire, Bernardo mi ha consigliato questo, perché Bernardo ti consiglia questo, su un gusto suo, su un budget suo, sulle esigenze sue, sono le tue, quindi ho cercato di dare questo, a condimento di tutto ciò, c'è una parte di contributi esterni, cioè di professionisti, che hanno dato la loro voce, anzi la loro penna, la loro tastiera, per dire la verità, in questo progetto, e che tra cui c'è Alessandro Ortenzi, che ha fatto un pezzo bellissimo, sul rapporto tra uomo e tecnologia, tra uomo e software, Matteo Pogliani, sull'influencer marketing, Flavio Explorio in Arabo, su Telegram, naturalmente non poteva essere, altrimenti, io amo quella piattaforma, Francesco Agostinis, anche te, lo so, iscrivetevi al canale di Paola, grazie, poi vi rinco, poi vi rinca, Francesco Agostinis, che ha dato il suo start tecnologico, dell'agenzia, quindi il portafoglio di tool, che lui usa nell'agenzia, e poi Deborah Montoli, che ha dato un approccio, ai tool di organizzazione, quindi proprio per la gestione del tempo, la produttività, le attività, queste cose qua, non lo so se sono riuscito a riuscire a trovare questo equilibrio, tra parte concreta e pratica dell'inventario, e parte teorica strategica, ci ho provato, poi sarete voi, saranno i lettori a dirmi se davvero è così. Però io so che hai fatto anche un'altra cosina, la tua web app, no? Sì, ho fatto una web app, abbiamo fatto, anche questo è un esperimento, dai, dai, diciamola tutta, abbiamo avuto modo, di trovare un software, veramente carino, che permette di fare web app, da partendo da un Google Sheet, quindi da un foglio Excel di Google, per chi non, non voglio Google, diciamo così, e permette di creare una web app. parliamo potabile. Una web app, cioè un'applicazione che si può installare sul telefono, non passando chiaramente dagli store canonici, Play Store o Apple Store, ma si va al link e poi si mette come segnalibro sulla home del telefono, ed è una web app di tool in offerta, che è una sezione del blog, è attiva ormai da un annetto, un annetto e mezzo, in cui raccolgo quelle che secondo me sono le offerte migliori dei tool. Per offerte, che cosa intendo? Sconti, sì, ma più che altro, dei software che vengono normalmente offerti a canone mensile, vengono offerti in licenza lifetime, cioè pago una volta, 49, 59, 69, dipende, e ottengo il tool per tutta la vita. Ok? Sono selezionati questi software dalla redazione di tool per startup e sono poi inseriti anche nella web app, su web, chiaramente sul blog e questa web app. Qual è il vantaggio di avere questa cosa? Chiaramente il risparmio, il budget, tendenzialmente i software che vanno a fare queste offerte sono software che desiderano una grande visibilità, quindi in alcuni casi sono anche software che ancora devono essere un po' affinati, sistemati, non hanno fatto un vero e proprio go to mind, market sono definitivi, ok? Sono ancora, c'è qualche bug, qualcosa, ma una volta ottenuto questi feedback dagli utenti, dalle impressioni, e sistemate queste cose, sono dei veri e propri software che fanno di tutto, dai video ai pagamenti online, la gestione dei calendari, di tutto, e appunto si riesce con una cifra, una tantum, a ottenere il software tutta la vita e gli aggiornamenti del software tutta la vita, perché un tempo si comprava la licenza, se volevi l'aggiornamento, dovevi pagare. Sì, esatto. Invece di si vengono... Così non abbiamo più scuse, quindi praticamente ci dobbiamo per forza adeguare, anzi adeguare, cioè abbiamo tutti gli strumenti, anzi tu hai offerto tutti gli strumenti per comunque stare al passo. Vabbè, i sogni di Bernardo? Da oggi in poi? I sogni di Bernardo, i sogni di Bernardo sono diventare il punto di riferimento dei Tulli in Italia, e questo è il mio sogno professionale, naturalmente. Il sogno, il sogno personale, beh, direi, ti dico, posso dirlo? È una cosa calcistica, la posso dire? Vabbè, te la consegniamo. Dai, personale, fammelo fare. Fare un gol sotto la curva Fiesole, che è la curva dello stadio della Fiesole. Ecco, allora facciamo un appello, facciamo un appello a chi, insomma, di direi. Bella presidente. Bernardo Manelli vorrebbe fare un gol sotto la curva Fiesole. Sotto la curva Fiesole e andare a esultare, eh, questa è, ognuno c'ha il suo. Sottile della macchietta e vi aiuto. Vabbè, allora noi non possiamo fare altro che augurarti di, insomma, di realizzare questo sogno. Penso di, anzi, sono sicura che hai detto molto di te, ci hai incuriosito, hai incuriosito anche sicuramente i nostri ascoltatori, quindi io esorto tutti comunque a cercarti, intanto tu hai, insomma, qualcosa da dirgli a tutti, quindi un aiuto lo dai sempre. Io rispondo, eh, se mi scrivete rispondo con i miei tempi, ma rispondo. confermo, Bernardo risponde, è uno di quelli che risponde, quindi ti dà comunque, ti dà gioia proprio nel cercarlo, o al di là del fatto che è una persona eccezionale, è un amico, insomma, carissimo, quindi io non posso fare altro che ringraziarti, sicuramente porterai bene a questa nuova situazione, diciamo, di parole digitali, e quindi ti faccio tanti, tanti, tanti in bocca al lupo per la tua carriera, per il tuo lavoro, per i tuoi sogni, per la tua famiglia, per tutto, ti ringrazio di essere stato con noi, e ti auguro buon lavoro. Grazie, grazie Paola, grazie davvero, buon lavoro anche a te, grazie a tutti, grazie mille, dietro, alla prossima, dai. Ci si vede online.